La probabilità del 50% di ereditare appunto questo gene, che ricordo può essere ereditato nel caso specifico dalla mamma, però potrebbe essere stato ereditato in caso di familiarità da parte del padre, anche dalla parte del padre, quindi non è solo la mamma, la linea materna, quella che conduce il gene, ma può essere anche la linea paterna.